Vediamo che cosa succede a No Moon. X e Rocket hanno sconfitto Zero, ma vediamo se ora è con noi Zero. Prima non era in sé. Zero ci chiede cos'è successo. Però hai solo cercato di ucciderci. Zero. Intanto vediamo cosa fanno Capitan Marvel e Nova. Eccolo finalmente, l'abbiamo trovato Grandmaster Melio, il lemico di Strider. Vediamo se Nova e Capitan Marvel ce la fanno contro i droni.